La Toscana ha l'undicesimo posto fra le regioni italiane per numero di persone contagiate dal nuovo coronavirus, con 231 casi ogni 100.000 abitanti contro i 300 della media nazionale, secondo gli ultimi dati diffusi dalla regione. Negli ultimi giorni, a fronte di un notevole incremento dei tamponi effettuati per la diagnosi, sono costantemente diminuiti i nuovi positivi, così come sono in calo i ricoveri ospedalieri, compresi quelli in terapia intensiva. Abbiamo chiesto come sta evolvendo il contagio in Toscana al direttore dell'Agenzia regionale di sanità Mario Braga. L'epidemia che ha colpito la Toscana sembra essere in fase di remissione, nel senso che tutti i segnali che abbiamo, sia a livello delle singole aree toscane che del complesso della Toscana, indicano che c'è un'attenuazione del contagio e una discesa, anche se lenta, verso una scomparsa sperabilmente dell'epidemia. Ma quali sono i luoghi dove più facilmente è possibile contrarre il contagio? Il contenimento, comunque i fattori di distanziamento sociale che sono stati attuati hanno ridotto di molto le interazioni sociali casuali, il che vuol dire che sono diventati più importanti i contatti all'interno di comunità. La comunità può essere la comunità familiare, la comunità può essere il carcere, la comunità può essere l'RSA. Queste sono comunità chiuse dove è più facile che la presenza di un caso positivo comporti poi la diffusione dell'infezione. Quindi il contagio in questo momento, le zone di maggior rischio sono le zone chiuse. Poi ovviamente ci sono delle possibilità anche all'interno delle attività sociali come per esempio l'andare alle poste, l'andare in supermercato, ma fortunatamente i comportamenti delle persone in questi contesti, sia le misure che sono state prese di razionamento nell'accesso a queste realtà, sia i comportamenti individuali hanno di molto ridotto il rischio di incontrare l'infezione in questi contesti. Quindi le misure di contenimento dell'epidemia hanno funzionato? Queste misure hanno funzionato. Il problema adesso sarà di capire nel momento in cui queste misure verranno allentate, come fare per evitare che ci sia una ripresa dell'infezione.